Nell'ultimo weekend delle mese di marzo noi elettori Emiliano Romagnoli come tanti altri elettori italiani saremo chiamati all'urne per il rinnovo del Parlamento regionale per cui mancano poche settimane a conclusione del primo mandato. Quali sono stati i passaggi più significativi di questi cinque anni di vita regionale per Damiano Zoffoli? Come ricordavo prima in qualità di Presidente della Commissione politico-economico ho avuto l'incarico di seguire nove progetti di legge e mi sono occupato per esempio dei temi dell'agricoltura, penso alla nuova legge sull'agriturismo, una legge all'insegna dell'alleanza fra agricoltura e turismo. Sono due settori strategici fondamentali dell'economia della nostra regione e della Romagna. Hanno dei problemi simili, c'è un problema di ricambio generazionale, c'è un problema di qualità dell'offerta, c'è un problema di rapporto qualità-prezzo. Io credo che soprattutto in Romagna, nella nostra provincia, il futuro della nostra economia sia legata anche a questa alleanza. Mi sono poi occupato anche dei temi dell'energia, del piano energetico regionale. La nostra è la prima regione in Italia che si è dotata di una legge sulla energia. Abbiamo poi dato via al piano energetico, che è lo strumento attuativo. Una scelta chiara, una scelta che la nostra regione ha fatto all'insegna delle fonti rinnovabili, delle energie alternative, il sole, il vento, il risparmio energetico. Ho poi avuto la possibilità anche di occuparmi di un altro tema strategico, che è quello dell'accesso al credito per i nostri imprenditori e le imprese. Abbiamo oggi una crisi in atto, una crisi che non rappresenta un crollo per la nostra economia regionale, ma certamente una serie difficoltà. Abbiamo una regione che ha fatto dei passi in avanti. è la prima regione in Italia come export. Siamo al 13,2% delle esportazioni italiane. Abbiamo delle imprese leader che si sono internazionalizzate, che oggi anch'esse sono in difficoltà, perché c'è un calo della domanda, perché i nostri prodotti, che sono prodotti mediamente di qualità, non trovano uno sbocco sui mercati internazionali, c'è un crollo o un calo notevole dei consumi interni. Per cui fondamentale è garantire l'accesso al credito, la liquidità alle nostre imprese e agli imprenditori, per poter far fronte anche agli investimenti che hanno fatto. Ecco, io mi sono fatto promotore di una legge che facilita e che incoraggia appunto l'accesso al credito attraverso lo strumento delle cooperative di garanzia e dei consorsi FIDI. Sostiene anche la valorizzazione del dialetto. E se fosse possibile chiedo sempre a Stefano Papini quell'immagine dove c'è proprio uno slogan ben riportato in dialetto romagnolo. Dovrebbe essere proprio verso la fine. Ecco qua. Tet, chi ci te fiori? Sì, questa è anche un'altra azione che assieme ad altri colleghi consiglieri ho fatto. Abbiamo approvato un ordine del giorno in assemblea che aveva lo scopo di rifinanziare una vecchia legge del 94 che ha come scopo la tutela e la valorizzazione dei dialetti e nella fattispecie del dialetto romagnolo. Perché? Perché in questo momento soprattutto di crisi e anche di difficoltà noi da una parte abbiamo bisogno di aprirci al mondo che cambia. Quindi integrazione e apertura. Ma lo dobbiamo fare saldi nelle nostre tradizioni, nelle nostre radici e nelle nostre origini. Il dialetto comunica semplicità, autenticità, vicinanza, calore. Oggi la politica ha bisogno di menti fredde e di cuore caldo. Mentre purtroppo in giro ci sono spesso delle menti calde e dei cuori freddi. Il dialetto è la nostra lingua. C'è un interesse enorme. Io ho incontrato tanti amici, poeti, artisti che coltivano questa passione e questo interesse per il dialetto. Dialetto che non divide. Qualcuno lo usa come un'arma di divisione e di separazione. Il dialetto unisce. In dialetto si possono raccontare delle balle ma non si possono dire le bugie perché il dialetto è la lingua della gente e della verità. Per i lettori che vivono nella provincia di Forlì e Cesena nella tornata elettorale per quel che riguarda il rinnovo del Parlamento regionale del mese di marzo dovrebbero votare Partito Democratico con preferenza Damiano Zoffoli. Per i politici ogni giorno gli esami non finiscono mai. Gli esami sono quotidiani. Quando uno si candida in questo caso abbiamo la possibilità, la fortuna di poterci scegliere direttamente i nostri rappresentanti. Noi sappiamo che purtroppo questa possibilità non c'è per il Parlamento nazionale. Le liste vengono compilate dalle forze politiche e il cittadino vota il partito e non può esprimere preferenze. La nostra legge elettorale regionale invece prevede questa possibilità che è una possibilità secondo me fondamentale e importante che andrebbe anche prevista per il Parlamento nazionale. Ripeto, ogni giorno noi siamo verificati rispetto al nostro impegno e è chiaro che quando ci presentiamo alle elezioni quello è il momento in cui render conto del lavoro fatto e degli impegni per il futuro. Io ho cercato in questi anni non solo di essere presente, questo è il minimo, questo è il mio dovere, ci mancherebbe altro che uno si fa eleggere, chiede il voto e poi non è presente laddove si decide e si discute. Quindi io c'ero, ho garantito la mia presenza e ho cercato di dare il mio contributo. Abbiamo bisogno di dare forza, dare gamba a questo territorio, alla Romagna, alla provincia di Forliecesena che è, come sappiamo, fra le prime, addirittura l'ultimo sondaggio del Sole 24 Ore, ci dà come prima provincia in Italia l'indicatore è il BIL, il benessere interno lordo che tiene contro oltre che della produzione, quindi della produzione economica, anche della qualità della vita e degli altri indici. Però abbiamo una società che cambia, pensiamo all'invecchiamento della nostra popolazione, abbiamo oltre in Emilia-Romagna 300.000 cittadini che hanno più di 80 anni, abbiamo una bella sorpresa che è quella della natalità, una primavera demografica, nascono anche in questa regione più bambini, abbiamo il fenomeno dell'immigrazione, un'immigrazione che rappresenta oggi ormai il 9-10% della popolazione anche nella nostra regione, abbiamo la necessità, cioè, di affrontare delle nuove sfide, di aprirci, come dicevo prima, al mondo, di sostenere le nostre imprese nei loro investimenti, di sostenere i nostri giovani, i nostri ragazzi, penso all'esperienza, riuscita, alla scommessa vinta, per esempio, dell'università in Romagna, del decentramento dell'università di Bologna in Romagna, questi giorni abbiamo ricordato i 20 anni di questa università, ci sono delle novità, penso ai tecnopoli, anche per la nostra provincia, ricerca, trasferimento tecnologico, innovazione, la possibilità di assumere 520 giovani ricercatori, sappiamo che la ricerca significa futuro, quindi il tecnopolo di Forlì-Cesena, il polo dell'aeroporto di Forlì, tecnologico-aeronautico, il polo agroalimentare Villa Almericci di Cesena, quindi bisogna che non ci accontentiamo dei traguardi raggiunti, ma costruiamo decisamente un futuro. Io ringrazio Damiano Zoffoli, candidato al Consiglio regionale per il Partito Democratico, consigliere uscente, per essere intervenuto nei nostri studi, un buon lavoro e un grosso in bocca al lupo. Un grazie naturalmente a tutti voi che ci avete gentilmente scelto e seguito, ringrazio il nostro regista Stefano Papini, mi auguro di riavere presto nei nostri studi il dottor Zoffoli in occasione di questi appuntamenti politici dedicati appunto al voto regionale in programma a fine marzo. Grazie a tutti voi per averci scelto e seguito, vi lascio in compagnia dei programmi di Reteotto VGA.